Come ha scritto il direttore del secolo? Vittima di un problema di traffico un po' di tempo fa, si dovesse riprodurre frequentemente l'intasamento dell'autostrada in conseguenza di questo tema, bisogna capire come affrontarlo, lo dico con spirito assolutamente costruttivo, di collaborazione con un comune con cui abbiamo fatto anche le cose insieme, penso a scelterare il depuratore, scelterare il comune ma che noi abbiamo aiutato a compiere. Perché è evidente che un accordo in autostrada, oltre a un vieto da visita non buono per il turismo, è anche un pericolo molto significativo per gli automobilisti. Io non sapevo neanche che mi avessero chiamato per questo, sinceramente, lo prendo adesso. Però hanno saputo che ero qui, mi hanno chiesto di fare un passo da loro, lo farò molto volentieri.